Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale! Io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote! Quest'oggi, visto la splendida giornata, anche se con un po' di calima, ho finito di lavorare, sono arrivata a casa e ho deciso di uscire a farmi una bella passeggiata qui nell'avenida di Puerto del Carmen. Ricordo a tutti ancora una volta che i nostri video sono sottotitolati in quattro lingue, italiano, inglese, tedesco e spagnolo, quindi andate nelle impostazioni e attivate la vostra lingua. Prima di lasciarvi al video, volevo ringraziare ancora una volta tutte le persone che hanno seguito ieri sera il video premiere con l'estrazione del fortunato vincitore del concorso di Curiosando Lanzarote. Rinnovo ancora i complimenti al signor Kevin e adesso però vi lascio al video, ci vediamo dopo! Ciao! 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 Eccomi di nuovo qui con voi, spero come sempre che il video vi sia piaciuto e che dire, da Lanzarote è tutto con le dita incrociate, visto che ieri hanno vaccinato la prima persona sull'isola, quindi speriamo di iniziare a fare qualche passo avanti e di tornare presto alla normalità, la giornata qui è splendida, io vi faccio ancora una passeggiata prima di rientrare a casa, vi saluto e vi do appuntamento domani come sempre alle ore 20 su Curiosando Lanzarote, ciao ragazzi!